E' già la seconda volta che diventi eroe della partita, stavolta doppietta, meglio di così? Sì, grazie a Dio oggi mi ha facciato entrare e convertire un gol o due, non lo so perché il secondo non lo so se fa in me, però l'importante è i tre punti per Bologna. Hai cambiato la partita però proprio oggi? No, non so se è cambiato la partita perché la prima parte io credo che Bologna ha facciato una grande partita e loro hanno arrivato una bella porta e hanno facciato un gol. Credo che è stato un po' injusto e la seconda parte credo che noi abbiamo facciato una gran seconda parte e abbiamo facciato due goli e che la prima parte non abbiamo tenuto l'opportunità. Adesso magari cercherai di giocare di più o vorrai giocare di più? Sì, però questo è difficile, io so che il calcio è più forte fisicamente e devo lavorare più per la prossima partita per se mi tocca 10, 15, 20 minuti e stare preparato. Con quale parte del corpo hai messo il pallone in rete il secondo? Ci sembrava col fianco? No, non l'ho visto perché mi ha facciato contro il pallone la testa e sinceramente non l'ho visto. Poi hai avuto un'altra occasione importante, quella parata da gilet? Sì, credo che il portero mi ha fatto una grande parata e dopo vino il calcio di angolo del secondo gol. Senti, ormai sei l'idolo della curva e hai visto con quale attenzione quando entri c'è grandi applausi, ci si aspetta tanto da te dopo queste partite? E, bueno, molto agradecido alla curva, molto agradecido a tutta la gente, però tranquillo perché questa è una partita che oggi faccio un gol e dopo la partita, magari non mi tocca, questo è tranquillo. E trattare di, lo più importante è che Bologna faccia da tre punti e che va a salvare una posizione difficile che sta. Er, stai bene fisicamente? Sei già al massimo adesso? Sì, 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 stai bene, però ovviamente che partita, non so come si dice, seguida è un po' difficile per me perché hace quattro mesi non faccio 90 minuti. Quindi allora sta un po' meglio di trattare di accumularmi a minuti. Qual è stata la cosa più difficile in questi mesi che hai dovuto imparare? La cosa più difficile credo che un po' parlare italiano mi ha costato molto, molto, però da poco hai che lavorare fisicamente, hai che lavorare per la lingua, hai che lavorare per tutti. Grazie. Grazie, complimenti.